Ti insegno come stupire tutti quanti con un mazzo di carte normale in pochissimi minuti utilizzando due o tre tecniche magiche. Prendi il tuo mazzo di carte preferito, lo puoi mescolare sia tu che lo spettatore ma in maniera completamente caotica anche utilizzando il casino shuffle. Una volta che avete mescolato tantissime volte e siete contenti del risultato tu come mago farai una previsione, anzi ne farai ben tre. Ad esempio la prima carta scelta potrebbe essere questa qui, la seconda carta scelta potrebbe essere questa qui, la terza carta scelta potrebbe essere ad esempio... ma sì dai utilizziamo questa qua. Ora abbiamo qui tre scelte, vediamole, due di quadri, jack di picche e asso di cuori. Possiamo mescolare tantissime volte il mazzo di carte perché tanto tu quando sarai pronto tirerei fuori la prima carta che è la carta gemella, il 2 rosso. La seconda carta la tiriamo fuori dopo un bel miscuglio e un bel taglio acrobatico in questa maniera e tiriamo fuori la seconda carta, il jack. L'ultima carta la possiamo mescolare ancora e la tiriamo fuori con un fantastico taglio acrobatico e la prima carta in alto sarà assolutamente l'altro asso rosso. Ops, abbiamo l'otto di fiori. Vabbè facciamo una cosa, mettiamolo qua e diventa automaticamente il secondo asso. Ma come diavolo ho fatto? Te lo spiego subito. Per fare questo gioco di magia potete mescolare sia tu che lo spettatore casualmente il mazzo. Una volta che hai mescolato e siete contenti del miscuglio, tu dovrai guardare le prime tre carte in cima. In questo caso io ho donna, jack e nove. Ok? Però tiro fuori le carte gemelle. Quindi la donna deve essere l'altra donna rossa e la posizioni ad esempio qui. La seconda carta dovrebbe essere il jack rosso. Vai vedere l'altro jack rosso? Eccolo qua. Posizioni qui. Ultima carta è il nove nero. Vai vedere l'altro nove nero e posizioni qui. Ora tu sai che in ordine usciranno la donna, il jack e il nove. Non devi fare altro che copiare tutte le tecniche che ci sono tra i miei video, ovvero miscuglio americano senza toccare le prime tre carte in alto. Taglio acrobatico che non tocca le carte in alto. Quindi qua sopra ci sarà sempre la donna, il jack e il nove. Puoi mescolare tantissime volte, l'importante è che tu tenga sempre in ordine queste carte. Quindi tutti questi miscugli e questi tagli li trovi sul mio profilo e l'ultima carta che ho fatto apparire è fatta con una doppia presa. Quindi ne giri due anziché una. La prima carta sarà quella sbagliata. Ok? Quindi ne giri una. Sopra tutto il mazzo abbiamo l'altro nove. Ops, abbiamo l'asso. Fa niente, l'asso lo appoggiamo sopra qua e diventa il nove. Quindi tre tecniche bellissime. Finti miscugli, finti tagli e doppia presa per eseguire questo gioco fantastico. Se ti è piaciuto questo gioco mi raccomando scrivimelo tra i commenti, seguimi sempre, tagga qualche amico magico e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando seguitemi se vi piace la magia perché per me è importantissimo per poter continuare con tutti questi tutorial. orialle.